ciao oggi sono molto contento di potervi parlare di questo portatile di lenovo think book plus di terza generazione che è diverso devo dire da tutti gli altri non per lo stylus che sto tirando fuori dal suo interno vi spiego tutto ma solo dopo che vi sarete iscritti al canale e avrete attivato la campanella delle notifiche e se avete qualche osservazione da fare mi raccomando lo spazio commenti è sempre aperto allora che sia un portatile diverso dal solito lo si capisce probabilmente anche da dove siete voi in questo momento perché beh queste proporzioni così inusuali 21 decimi 17,3 pollici per lo schermo principale perché qua sotto ce n'è un altro 8 pollici in 16 decimi questa volta quindi due schermi di cui quello principale come vedete si piega fino a quasi 180 gradi mentre l'altro è fisso qui a fianco della tastiera e non è un portatile per content creator perché comunque non abbiamo una scheda video discreta al suo interno non è nemmeno quindi del tutto un desktop replacement è più il sogno proibito degli amanti del multitasking e ora appunto vi spiego meglio come mai togliamoci infatti subito il dente delle prestazioni perché beh in questo caso non sono interessanti nel senso che sono molto buone è dotato di i7-12700h con 32 gigabyte di lp di dr5 e questo thinkbook plus di terza generazione si comporta davvero molto molto bene anche dopo uno stress prolungato al 100% della cpu di oltre mezz'ora starà intorno ai 2,7 gigahertz di clock rispetto ai 2,3 base con temperature sui cordi 85 gradi e un assorbimento di circa 53 watt sul package sono tutti valori ottimi segno di un raffreddamento ottimale appunto scusate se continuo a ripetermi dovuto anche in parte alle generose dimensioni guardate quanto è ampia qua sotto la griglia di aerazione poi ci sono anche quelle di sfiato sul retro insomma è un portatile che dal punto di vista termico sfrutta il tanto spazio che ha a sua disposizione lo sfrutta bene per scendere intorno a base clock dovete mandare al 100% anche la gpu integrata che comunque è una air 6e da 96 unità di elaborazione quindi non è che dal punto di vista grafico siete lasciati a piedi ci potete anche un po giocare con questa scheda qui si fanno in full hd magari a dettagli bassi giochi del tipo fortnite overwatch 2 insomma titoli di questo calibro qua tanto per capirsi e scendendo più a patti anche con la risoluzione magari anche qualcosina di più però è chiaro che questo non sia un laptop gaming così come non è un laptop multimediale perché questo schermo così allungato male si presta a contenuti singoli full screen come appunto vedremo a breve già che siamo a parlare di hardware forse l'avete intraviste la maggior parte delle porte sono stranamente diciamo sul retro hdmi 2.1 due usb a 3.2 delle quali una può essere sempre alimentata lo regolate dalle impostazioni e una thunderbolt 4 in più sul fianco sinistro troviamo un'altra usb c che però non è thunderbolt compatibile power delivery dati display port non è thunderbolt e il jack audio cosa manca lettore di schede sd in tutto questo spazio da qualche parte mi sarebbe piaciuto trovarlo perché comunque è un tipo di scheda che ci sarebbe stata bene in un laptop che ammicca molto a parer mio ai fotografi e comunque a chi lavori con la grafica grafica magari 2d più che 3d ma insomma il concetto della scheda sd assente rimane poi giusto che siamo qui a parlare di connettività c'è wifi 6e quindi benissimo sempre che lo possiate sfruttare probabilmente al momento la risposta è no ma è una cosa che va bene in ottica futura bluetooth 5.2 punti deboli grossi evidenti soltanto uno l'autonomia perché perché non vi ho detto intanto che lo schermo principale a 120 hertz più lo schermo secondario più il processore comunque di serie h batteria da 69 wattora che sono tanti ma nei 17 pollici spesso troviamo anche capacità superiori del resto la presenza di un secondo display qui probabilmente limita molto l'arrangiamento dei componenti all'interno insomma 4 5 ore di lavoro 7 ore passa di riproduzione video non sono valori stellari onestamente anzi diciamo che dovessi proprio puntare un tallone di achille di questo modello sarebbe senz'altro l'autonomia ma adesso parliamo davvero di quello che lo caratterizza cioè questi due schermi dei quali appunto uno il secondario che non ha praticamente nessuno ma anche quello principale con un formato veramente insolito formato che lo si capisce subito non è adatto al full screen perché se voi mandate a piano schermo un browser ottenete una quantità di spazio sprecato abominevole e per di più dovete comunque continuamente fare scrolling perché lo spazio in verticale non è tanto diverso il discorso se incominciate ad affiancarli un po questi programmi perché perché intanto lenovo ci ha messo anche del suo lato software nell'andare a migliorare il già buon posizionamento di windows chiamando in causa anche il secondo schermo potete infatti molto facilmente devo dire andare a collocare applicazioni o nello schermo principale o in quello secondario o anche in questa visuale un po allungata tra i due che è forse più scenica che utile però insomma diciamo che le opzioni a disposizione sono tante in modo da poter disporre browser chat file manager e tutte le altre applicazioni che vi possono far comodo sullo schermo principale quelle magari forse un pochino diciamo più in background su quello secondario ma è tutto a discrezione vostra ovviamente poi sia chiaro con questo non sto dicendo che non vi potete godere un bel film su questo display display che tra l'altro non ve l'ho detto è a 3072 per 1440 pixel ho già accennato ai 120 hertz purtroppo non c'è lo switch automatico ancora su windows quindi dovete essere voi manualmente o tramite delle shortcut a decidere se passare a 60 o a 120 100% quasi della copertura di cip 3 400 nit di luminosità è comunque un bello schermo che si utilizza in maniera secondo me piacevole anche per i contenuti multimediali è solo il suo formato che lo rende un pochino inadatto rispetto magari appunto ad altri formati il display più piccolino invece è 800 per 1200 10 16 a sua volta 350 nit si nota che non sono la stessa la stessa tipologia di schermo affiancandoli vedete che comunque anche la luminosità appunto non è identica anche se potete andare poi a diciamo sincronizzare la luminosità dell'uno con l'altro ovviamente fino a un certo limite perché quello più piccolo si ferma a circa 350 contro i 400 dello schermo più grande ma ciò che rende particolare lo schermo più piccolino è il fatto che via software lenovo ha aggiunto diverse funzionalità che lo rendono senz'altro peculiare allora intanto potete creare proprio dei gruppi di applicazione utilizzare il launcher incluso nello schermo da 8 pollici in modo da avere sempre a disposizione quei gruppetti di app o comunque quelle singole applicazioni che vi facciano più comodo e che utilizzate di più pronte ad un semplice click e già questo è un piccolo tocco di rapidità poi c'è ovviamente la possibilità di utilizzarlo come lavagna per scrivere prendere appunti insomma un po tutto quello che volete dopodiché questa forse una delle funzioni più utili potete fare il mirroring di una porzione dello schermo grande su quello piccolo utile in questo caso particolarmente nelle applicazioni fotografiche così andate a lavorare più sul dettaglio anche perché non l'ho specificato fino a ora ma lo schermo principale pur essendo multitouch non ha il digitalizzatore cioè la penna la potete utilizzare solo sullo schermo da 8 pollici che poi in fondo è la cosa anche più logica perché quello più solido è nella parte inferiore dove vi appoggiate meglio mentre invece in quella in alto non avreste avuto la stessa solidità di posa ovviamente allo stesso modo potete poi proiettare lo schermo inferiore su quello principale anche se questa è una funzione che personalmente ritengo magari un po meno utile magari giusto appunto durante una presentazione con i colleghi potete utilizzarlo anche come tastierone numerico con in più qualche funzione aggiuntiva e soprattutto potete sfruttare anche la lenovo i color pen che è inclusa in confezione e che beh rispetto allo stilo passivo che è sempre lì a portata di mano è tutta un'altra esperienza di scrittura le dimensioni sono quelle più classiche il peso la si impugna meglio più a lungo ci sono tre tasti programmabili e poi qua sul dorso c'è anche una piccola webcam se così la possiamo chiamare che vi serve a catturare i colori del mondo reale cioè voi la puntate verso un tavolo un oggetto quello che volete cliccate e a quel punto vi ritrovate il colore catturato nel vostro applicativo questa cosa è di una ganzata secondo me pazzesca per chi lavori con la grafica proprio quando si parla di passare dal reale al digitale ecco qui lo fate veramente con un tocco e dicevo quindi per questo motivo che è un portatile teso soprattutto a chi lavori con la grafica con photoshop con le immagini piuttosto che con il montaggio video o comunque con tutti quei lavori dove l'assenza di una gpu discreta si farebbe di più sentire rispetto invece a questi altri dove già avere un processore di serie h basta e tutto sommato avanza per la maggior parte degli utilizzi è chiaro insomma come tutti i modelli altamente diciamo specifici che questo think book plus di terza generazione vada incontro ad un particolare tipo di utenti quelli che hanno grosse esigenze quotidiane di multitasking e qui fantastico perché avete non solo uno schermo principale che vi consente facilmente di essere diviso in due o tre ma anche lo schermo secondario e in più a chi utilizzi spesso lo stylus per prendere appunti note eccetera ma anche per qualcosa di più non scambiate questo 8 pollici per una tavoletta grafica non è quello tavolette grafiche sono diverse come funzionalità e anche proprio come formato questo non è il formato di una tavoletta grafica insomma per capirsi però torna comunque utile nel fotoritocco nel disegno insomma in tutte quelle attività dove lo stylus e questo qui è davvero un ottimo stylus vale circa 100 euro è un bel bonus nella confezione lo stylus appunto dia il suo meglio già che parliamo di prezzo al momento non è disponibile sullo store ufficiale lenovo dovrebbe tornare a breve il listino se non sbaglio era sui circa 2500 euro online lo si trova non molto a dire la verità non sono tanti gli store dove lo trovate a circa 2100 2200 euro che devo essere sincero considerando il periodo l'inflazione rincaro e tutto poteva andare anche molto peggio cioè è un portatile non per tutti questo lo abbiamo capito ma per coloro che abbiano queste esigenze qui a questo prezzo tutto sommato soprattutto in questo 2023 barra 2022 che si sta portando i rincari ovviamente dello scorso anno poi il modello non è certo stato annunciato adesso va tutto sommato benino abbiamo assistito a prezzi ben più bislacchi supportateli con hardware simile ma non certo così caratteristici non con un secondo schermo ci sarebbero poi tanti altri piccoli dettagli non vi ho parlato della webcam che comunque full hd anche gli sblocco per il volto sblocco ieri col volto c'è anche il lettore di impronte digitali poi cos'altro ah sì c'è tanto software da parte di renovo un'ottima personalizzazione software da parte di renovo con tante aggiunte secondo me azzeccate non bloatware che vanno a migliorare l'esperienza d'uso sia nell'utilizzo della webcam che del portatile che della gestione dell'alimentazione insomma tante cosucce che trovate come sempre nella recensione completa che ho pubblicato su smartword.it da parte mia come sempre un bel saluto e alla prossima si vedeva che il gesto era plateale vero vabbè ciao